Ciao, oggi vi farò vedere come realizzare il gelato senza latte condensato e senza panna. Cremosissimo e super super buono. Provatelo e se lo provate lasciatemi un commento. Prendete una pentola, versate 700 ml di latte parzialmente scremato. Se volete potete utilizzare anche il latte intero. 180 g di zucchero semolato. Passiamo ai fornelli con una fiamma medio-bassa. Sciogliete benissimo lo zucchero. Quando il latte diventa ben caldo, ma non deve arrivare ad ebollizione, dovete prestare 100 g di cioccolato fondente. Adesso è estate e non ho tagliato il cioccolato fondente a scaglia, però se realizzate il gelato in inverno vi consiglio di tagliare il cioccolato fondente. Era quasi sciolto, quindi l'ho messo direttamente ai blocchi interi. Una volta che avete sciolto benissimo il vostro cioccolato, potete spegnere la fiamma. Prendete un'altra ciotola e versate 3 cucchiai di cacao amaro e setacciate benissimo il cacao amaro. Una volta che avete setacciato il cacao amaro, versate il latte ancora caldo. E quindi setacciate così anche il latte, evitando i grumi che si possono venire a formare con il cioccolato fondente. Quindi abbiamo setacciato e filtrato il cacao amaro e filtrato anche il latte. Ragazzi, la ricetta è tutta qui. Davvero facilissima. Fate ritornare il composto a temperatura ambiente. Quando il vostro composto ritorna a temperatura ambiente, mettete il tutto all'interno di un contenitore e conservate in freezer per circa 5 ore. Minimo 5 ore. Non di più, mi raccomando. Piuttosto meno, tipo 4 ore e mezzo. Ma non di più, quindi non più delle 5 ore. Quindi ricoprite benissimo con la pellicola e conservate in freezer per 5 ore. Perfetto. Trascorse le 5 ore potete montare la vostra gelatiera. Io utilizzo la gelatiera di Lidl e quindi conservo il cestello in freezer almeno 24 ore. Vado a montare la gelatiera e aziono la gelatiera e verso poco per volta il mio composto. Cosa dovete fare prima? Con un cucchiaio o un cucchiaino dovete amalgamare benissimo il vostro composto. Quindi una volta che avete sciolto tutti i cumuli, diciamo, tra virgolette di ghiaccio che sono venuti a formare, potete versare il vostro composto all'interno. Fate lavorare con la gelatiera per almeno 30 minuti. Ogni gelatiera funziona in modo diverso, tra i 30 e i 40 minuti. Ragazzi, un gelato cremoso è super super buono. Facilissimo e velocissimo da realizzare. Senza latte condensato e senza panna. Quindi il gelato è pronto per essere consumato subito. Quindi uscite le coppette, i coni e assaggiate questo gelato perché è una vera e propria delizia. Se il gelato non lo dovete consumare subito, lo potete mettere all'interno dell'apposita vaschetta che utilizzate per il gelato. Le classiche vaschette del gelato. E quindi potete lasciarlo ancora un poco in freezer se lo volete, volete una consistenza diversa. Però già vi dico che il gelato non si ghiaccia mai. Quindi anche se tenete il gelato in freezer 10-15 giorni, il gelato resta sempre super cremoso. Quindi ragazzi, che dirvi? Provate questo gelato e lasciatemi un commento. Vi aspetto sul mio canale YouTube. Ciao, alla prossima!